Partiti, la ruppura di Osvaldo Jett, la squalifica per Osvaldo Jett mentre apre il comando ha visto Oriente Rovnando assume il comando nei confronti di Occellotto, mentre Occiucco va subito all'attacco di Oriente Rovnando i due alle prese a completamento dei 400 con Oriente Rovnando che difende la posizione da Occiucco, insiste Occiucco dopo 28 e 8 per i primi 400, i due ancora alle prese, Oriente Rovnando in vantaggio, Occiucco che attacca poi c'è Orizzonte che supera Occellotto, 600 iniziali in 43 8, Occiucco all'esterno, Orizzonte rimane in linea in terza posizione, Occellotto più dietro, poi Oriente dei sogni, intanto gli 800 iniziali molto svelti completati da Oriente Rovnando in 59 7 con l'esterno sempre Occiucco, Occiucco insiste, poi c'è Orizzonte ancora Occellotto, quindi Oriente dei sogni gli altri, il chilometro è volato via da Oriente Rovnando e Occiucco in 1 15 e 1, cala Occiucco a 550 dalla confusione, scatta Orizzonte, Orizzonte va su Oriente Rovnando, mentre Occellotto non riesce a tenere il ritmo dei primi, 400 poco più alla confusione con Orizzonte che insiste su Oriente Rovnando, anche Oriente dei sogni progredisce supera Occellotto, siamo a metà della curva confusiva con Oriente Rovnando che distrende ancora la posizione di testa ma insiste Orizzonte, anche Oriente dei sogni si è vicina, retto d'arrivo con Oriente, l'attaccato ancora con Orizzonte, i due alle prese, assento dalla confusione, attacco ancora di Orizzonte su Oriente Rovnando, Oriente Rovnando tenta la difesa del finale da Orizzonte, i due vicissimi sul palo, vince, però è in un periodo rovnando, al terzo finisce Oriente dei sogni davanti a Occellotto.